Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Bella la mia maglietta, vero? We don't give up. Allora, quindi non si molla. Allora, oggi volevo presentarvi il mio ultimo mini album, che è così. Allora, questo album è stato fatto con due collezioni di stamperia. Uno è Herbarium e l'altro è, ve lo dico, datemi un attimo, non ne ho idea. Solo un secondo. Ok, ce l'ho. Lilac Flower. Quindi, Herbarium e Lilac Flower. Ok, due collezioni perché una non mi ne sarebbe mai bastata, perché le avevo iniziate entrambe per fare altri lavori. Penso che per un po' sarà l'ultimo mini che vi mostro, se da questo momento in poi ci saranno altri video, sono per dei lavori che avevo già fatto e che ancora non ho condiviso, quindi non lo so, ma per un po' mi fermo qui, perché ho finito tutto o quasi tutto. E quindi la mia produzione per un po' termina. Ok, allora, prima di mostrarvi l'album, volevo dirvi che per la struttura mi sono ispirata a uno dei primi video di Scrap Mary che avevo visto. Vi lascerò il link nell'info box, ovviamente. Il video ha un momento di panico, non mi ricordo il nome dell'album. Era Beard Song, ok, della Graphic 45. Penso che sia il primo video in assoluto che ho visto di Scrap Mary e io adoro il Giappone, piccola parentesi, adoro il Giappone in una maniera esagerata. E quindi un giorno, non si sa perché, YouTube mi presentò un link di questo... Io ancora non mi interessavo lo scrapbooking, non sapevo neanche che cosa fosse lo scrapbooking. Mi suggerì quel video e ovviamente per una persona come me che ama il Giappone, vedere un video del genere fu una vera fulgorazione. Ovviamente mi sono ispirata alla struttura perché comunque di quel video Marisa non fece mai un tutorial, almeno non mi sembra, però mostrò il lavoro che aveva fatto spiegando anche lei da cosa aveva preso spunto e tutto quanto. Quindi se volete vedere quel video, quello che ha cambiato in un certo senso la mia vita, vi lascio il link, ovviamente. Poi YouTube fa sempre questi scherzi e mi suggerisce sempre cose inaspettate, quindi l'ultima volta mi ha suggerito un video in tailandese e adesso ho iniziato a studiare in tailandese, ma questa è un'altra storia. Quindi, velocemente vi faccio vedere l'album. Allora, ripeto, due collezioni perché una non mi sarebbe mai bastata, ve lo mostro così. Per fare la copertina ho usato addirittura questa, non appartiene alla collezione, ma veramente avevo finito il materiale. Praticamente è una shaker card. Visto che il tema era un po' la botanica, i fiori e cose varie, dentro ho usato una card della collezione ovviamente e questi sono dei semi veri, semi che avevo io da anni, quindi ormai scaduti. Ci sono semi di girasole, semi di peperoncino e semi di due tipi di peperoncino. Poi ci ho attaccato questi fiori, uno e due. Fiori questi, non so, che ho da secoli. Forse questo è uno dei primi fiori che ho mai comprato. E questa mezza fostellata di farfalle. Ah, e qui ci ho attaccato questo pezzo di stoffa, di garda, colorata con il Distress, ve lo dico. Qual è? Con questo Distress, sempre comprato da Marisa. Il Seedless Preservos. Non so, con questo. Comunque diciamo che l'album è distressato, le carte dell'album, gli interni, sono distressati con questo. Allora, iniziamo. È molto semplice, anche all'interno, almeno dal mio punto di vista, perché ho lasciato alcune decorazioni, alcune pezze di carta, per poi, quando aggiungerò le foto, perché pensavo comunque di fare delle foto prima o poi usciremo di casa, e pensavo di inserire qui proprio le foto di quei primi giorni, però ho pensato che alle foto avrei dovuto aggiungere altre decorazioni, quindi qualche pezzettino di carta, qualche fiorellino me lo sono tenuto da parte. Quindi, allora, la struttura interna è fatta con, la cosa carina, è fatta con delle buste di carta da lettere. La carta da lettere quella non mi manca, e quindi ogni pagina è realizzata con due buste, una attaccata all'altra. Ovviamente non vi sto a spiegare come farlo, perché ci sono un sacco di tutorial a riguardo. Vi faccio solo brevemente vedere l'album. Allora, qui, come vedete, questa è la prima pagina, questa è una card della collezione, si vede? Sì, lo vedete? Ok. Questa è una card della collezione, poi si gira in questa maniera, e qui ho realizzato questa decorazione. Ok, forse così si vede bene. Praticamente, questo è attaccato, appunto, qui ci andrà la foto. Ho usato, visto che comunque mi piaceva l'idea della natura, ho usato questo nastro che mi è stato regalato. Qui ci ho attaccato questi fiori, e qui appunto c'è questa tag che può essere usata come decorazione o altro. Intanto le ho posizionate qui, poi quando metterò le foto deciderò in che modo usare anche queste tag. Intanto diciamo che sono un segnaposto. Questa è identica, le pagine sono speculare. Poi si gira e finalmente qui si vede la busta. Praticamente, con questa busta, penso che l'inquadratura sia pessima, vabbè, perdonatemi. Ho fatto due tag. Una e due. E qui si vede il retro, praticamente, della busta decorata. Ripeto, è molto semplice. Se vedrete il video di Scrabberry, vedete che il suo è molto più complesso, ma è ovviamente anche un altro stile. Ma io ho dovuto utilizzare quello che avevo a disposizione, ovviamente. Seconda pagina. Questa l'ho lasciata così, volutamente bianca, volutamente senza decorazioni, senza niente. Poi vedremo appunto, quando ci andrà la foto, la foto come la decorerò. Magari poi, se riuscirò a metterci le foto, vi farò una versione con l'album aggiornato e decorato. Qui si apre così. Questo, praticamente, queste sono due tag della collezione, due grandi. E questo si apre semplicemente così. Qui c'è lo spazio per scrivere, perché... Anzi, qua si vede meglio, perché qua ci sono le righella no. Quindi c'è lo spazio per il journaling, per scrivere della giornata. E qui ci possono andare tranquillamente le due foto. Poi, di nuovo, si gira. E la struttura, no, ho saltato una pagina, scusate, è di nuovo quella. Quindi qui c'è la busta, con le due tagline tenute, appunto, dalla busta che, in questo caso, è incollata. Terza pagina, in tutto sono quattro pagine. Qui ho usato sempre elementi della collezione. Le carte delle due collezioni le ho mixate, quindi a questo punto non so cosa proviene da una, cosa proviene dall'altra. Questo mi sembra che sia erbarium. Quindi, anche qui, ho lasciato questo come segna posto. Anche questa tag. Le carte coi papaveri sono le mie preferite, perché questo rosso è bellissimo. Poi qui si apre. Ecco, questa dovrebbe essere l'altra collezione, l'ailac. E qui ho realizzato questo motivo. Questo motivo di legno è una decorazione sempre comprata da Scrap Mary, anni fa. L'anno scorso, mi pare. Qui ho decorato semplicemente con delle mezze perle. E questo è. Quindi, come vedete, è veramente molto, molto semplice. Altra pagina, altra busta, altre due spazi per le foto, per scrivere, cose varie. Qui, volendo io, no, senza volendo, qui ci metterò le foto, perché ovviamente le stamperò in una misura abbastanza piccola. Ultima pagina, che per assurdo è la prima pagina che ho fatto. Questo è erbarium. Sotto c'è una carta dell'altra collezione, ma come vedete, anche come colori, almeno a me pare che siano molto adeguati l'uno con l'altro. Si mixino bene. Quindi, questo è aperto. In modo che poi la foto possa essere infilata qui e questo faccia parte della decorazione della foto. Questo così. Questa è l'ultima fustellata che ho fatto, che mi hanno regalato. Mi è rimasta solo questa. Anche in questo caso è aperta. Poi vi mostrerò anche nelle altre foto, dove ci sono le cose bianche. Sono, le decorazioni sono tutte aperte sul foglio bianco, in modo che poi la foto possa andare dentro. Qui ho messo semplicemente un centrino di carta. E infine l'ultima pagina, appunto, di nuovo con la busta e le due tag. Vi volevo far vedere, solo un attimo, ecco, anche qui questa è aperta. Quindi, le pagine sono, come vedete, tutte strutturate in maniera simile. Quando c'è una decorazione che si sovrappone allo spazio che abbiamo fatto per la foto, la decorazione diventa parte anche della decorazione della foto. L'ho fatto questo perché altrimenti avrei dovuto, se questo non fosse, se questo fosse stato incollato, avrei dovuto attaccare una foto così o avrei dovuto dargli una forma. In questa maniera, ovviamente, posso anche evitare di incollarla, la foto, perché c'è comunque questa decorazione che me la tiene ferma. Il dietro è molto semplice, è così. Questa carta è di una colazione di Moda Scrap, mi sembra. Niente, questo è di nuovo il fronte, il davanti. Questo è quanto. Oggi è un video abbastanza corto. Spero che vi piaccia. Se vi piace il video, ovviamente, e questo lavoro, mettete un like. Magari seguitemi sulla mia pagina Facebook. Se vi va. Siamo veramente in pochi, ma non ha importanza. Quando pubblico lavori, pubblico anche lì. Niente, spero che guardiate il video di Scrapberry, perché oltre a quello ne ha fatti veramente tantissimi altri. e ci vediamo alla prossima. Con... Speriamo presto. Con nulla. Speriamo presto. E ricordatevi che si resiste. We don't give up. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!